In cento piazze italiane ieri sera a partire dalle ore 21.45 si sono tenute fiaccolate per la difesa del clima, messo in discussione con la decisione del Presidente Donald Trump che ha ritirato gli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi. L'iniziativa è del Partito Democratico che ha inteso con manifestazioni in tutta Italia richiamare l'attenzione della pubblica opinione su un problema planetario che rischia di mettere in serio pericolo l'esistenza delle future generazioni. La tutela dell'ambiente purtroppo comporta restrizioni sulle attività produttive e quindi sacrifici economici. Anche in Abruzzo il Partito Democratico ha risposto all'iniziativa Tutti Insieme per sostenere l'accordo sul clima. Quattro le città dove circola i PD si sono mobilitati, Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare e Solmona. Abbiamo il dovere e la responsabilità, prima ancora come cittadini, di salvare gli impegni presse con gli Accordi di Parigi, ha affermato il segretario regionale democratico Marco Rapino. In seguito alla scelta di Donald Trump di non mantenere l'impegno degli USA nell'accordo di Parigi sul clima, vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica. Il futuro del nostro pianeta non riguarda solamente la politica, ha proseguito Rapino. La scelta del Presidente Donald Trump è una scelta che rifiuta il futuro. Noi vogliamo difendere il futuro e la nostra reazione oggi è necessaria. A Solmona una quarantina di persone si è riunita in piazza Capograssi, attuando proprio vicino al Palazzo di Giustizia un presidio. Dato il numero limitato di presenti, dovuto e forse a scassa informazione della cittadinanza sul grave problema, si è deciso di non fare la fiaccolata, ma di effettuare a breve un valantinaggio per informare al meglio i cittadini di Solmona e del Comprezzorio.